Tiziano Ferro invita Gerardina Trovato in America. Tutto parte dalle tuoi anni. Anche i grandi artisti hanno un cuore e così Tiziana Ferro prova ad aiutare Gerardina Trovato nel suo percorso di rinascita. L'America non è poi così lontana, cantava Gerardina Trovato nel 1993 nel suo brano Ma non ho più la mia città e 31 anni dopo l'America torna ad essere un crocevia per il futuro della cantante catanese che era scomparsa dalle scene per gravi problemi personali. L'assist è arrivato da un'altra artista da sempre apprezzata dal pubblico Valentina Persia che si è esibita sul palco di Letoianni giovedì scorso nella stessa serata in cui nella cittadina turistica in piazza Cagli ha cantato anche Gerardina Trovato. Le due si sono incontrate dietro le quinte e Valentina Persia ha fatto un bellissimo post scrivendo Avevo paura di ferirti per questo non ho stretto forte l'abbraccio. Ho visto più di quanto pensavo di vedere. Quando si inciampa bisognerebbe trovare mani per risollevarci. Io le ho trovate. Spero tante mani buone anche per te dolce anima pura. Apri quel cassetto. Via le ragnatele. L'America non è poi così lontana. A quel punto Tiziano Ferro ha risposto al post. E poi in America ci sto io. Venite. Non si esclude che Tiziano Ferro possa decidere di produrre un nuovo lavoro per Gerardina Trovato. E sarebbe davvero il lieto fine della favola di un artista che dopo il baratro più profondo e un incubo che sembrava non finire mai. Ora rivedere finalmente la svolta e commuove con la sua storia tante persone.